Una catastrofe informatica sta seminando il caos in tutto il mondo, servizi vitali come i sistemi per le chiamate ai centralini della polizia e degli ospedali che sono andati in tilt, oltre 5.000 voli cancellati in tutto il mondo, a reporti bloccati, problemi per ricevere assistenza sanitaria, problemi per tutti i servizi che emettono le buste paghe, con conseguenze ritardi nei pagamenti degli stipendi. Ebbene, i complottisti sì, già pensavano all'apocalissi informatica e al più grande attacco hacker globale, invece si tratta solo di un errore provocato da un aggiornamento software che ha mandato in blocco il sistema informatico mondiale. Inizialmente si era pensato fosse un problema del sistema operativo di Microsoft e quindi molti si aspettavano grandi ripercussioni sul titolo in borsa, ma il tutto è stato invece causato da una famosa azienda di sicurezza informatica che si chiama CrowdStrike. Salve a tutti, Marco Casario qui, ed oggi parliamo di come un semplice aggiornamento ha creato il panico digitale e ha fermato il mondo, ma andiamo a vedere cosa è successo in maniera un po' più precisa, cerchiamo di spiegarlo in questo video. Il problema che CrowdStrike fondamentalmente ha avuto è stato un problema di aggiornamento della configurazione di alcuni parametri per i sistemi Windows, è stato rilasciato nelle prime ore di venerdì 19 luglio, e ha causato un errore logico nei sistemi basati su Windows, su sistemi operativi, che a sua volta ha portato tutti questi dispositivi a mostrare il fantomatico errore con la schermata blu, quella della morte. E tantissimi sono andati in panico non sapendo che cosa poter fare. Questo aggiornamento è stato causato dal Falcon Sensor. Falcon Sensor è il programma, il prodotto di punta di CrowdStrike, che se non la conoscete vi dico è un'azienda di sicurezza informatica, con sede negli Stati Uniti, che collabora con aziende di tutto il mondo e fornisce soluzioni per la prevenzione sulle minacce e per la gestione della risposta agli attacchi informatici. Fondamentalmente è un fornitore di sicurezza informatica di primo ordine, ha una posizione che è dominante sul mercato della sicurezza. E questo suo prodotto diciamo che è il più venduto e funziona all'interno dei sistemi operativi cercando di identificare quelli che possono essere indicatori di comportamento di attacchi hacker e facendolo in che modo? Attingendo ad un vastissimo database di malware e cercando di proteggere da appunto attacchi aziende che utilizzano questo prodotto. Ebbene, proprio questo prodotto il 19 luglio, attraverso un aggiornamento che è stato rilasciato per la configurazione che ne doveva migliorare la capacità di rilevare nuove minacce, ha causato questo errore logico e l'errore logico ragazzi su un sistema operativo si verifica quando c'è un'interruzione nel flusso del programma che causa fondamentalmente l'arresto anomalo o l'arresto definitivo del dispositivo per cercare di prevenire altri danni. Ma i danni ci sono stati e come? Sono stati enormi. Negozi, banche, metropolitane a New York si è bloccata, aeroporti come quello di Schiphol, aeroporti in Grecia, aeroporti a Madrid, Berlino, Lisbona, Itro, a Londra, hanno avuto problemi enormi. Addirittura si sono paralizzati, qui a Schiphol in Olanda si sono completamente paralizzati e KLM ha dovuto ammettere e cancellare tantissimi voli. In questo momento il problema sembra un pochino rientrato, Microsoft e CrowdStrike stanno affermando di aver identificato e isolato il problema e c'è una soluzione che stanno applicando, ma c'è chi dice che ci vorranno settimane per poter risolvere al 100% il problema. E ovviamente sono arrivate in questo video, ragazzi, andatelo a vedere se volete approfondire, le scuse, le sincere scuse che si è dovuto cospargere di cenere il capo, l'amministratore delegato di CrowdStrike, dicendo e cercando di rispondere alla domanda che tutti quanti gli hanno fatto. Quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità? Ebbene, CARS, l'amministratore delegato, spiega che molti sistemi possono essere semplicemente riavviati e tornare operativi rapidamente. Altri però potrebbero chiedere più tempo e quindi l'azienda sta lavorando in maniera instancabile per fornire assistenza e garantire che ogni cliente possa tornare operativo il prima possibile. E indovinate un po' che cosa è successo in borsa al titolo di CrowdStrike? Che era entrato da poco all'interno dell'S&P 500, boom, eccolo qua. Guardate che candelone con un gap, meno 26% in un giorno, però considerate che questa è un'azienda, ragazzi, che negli ultimi 12 mesi ha fatto più del 100%, considerando pure il ritracciamento del 19 luglio del 26%, quindi è un'azienda che è cresciuta tanto, lasciatemi dire, forse troppo, ma adesso lo vediamo. E invece Microsoft, che cosa è successo? Perché molti pensavano che il problema fosse di Microsoft. Microsoft, niente, è scesa come le altre magnifiche 7, anzi oggi in pre-market sta anche salendo, quindi vi direi che Microsoft non ha avuto nessun grande problema dal punto di vista degli investitori. Ora, cerchiamo un attimo di capire, innanzitutto, come sta andando questa azienda, perché molti si stanno chiedendo, ma forse questo è il momento di poter entrare, visto il grande ritracciamento all'interno di CrowdStrike che ha sofferto tanto? Io, come al solito, quello che vi dico è, attenzione, non fate passi affrettati, cercate di valutare bene la situazione, perché è fondamentale anche l'orizzonte temporale. Quindi partiamo un pochino da capire qual è la dimensione del mercato in cui opera questa azienda, no? Il mercato della sicurezza informatica, ragazzi, è un mercato enorme, e considerate che è stimato tra hardware e software a 222,6 miliardi nel 2023, con una crescita del 12,3% fino al 2030. L'azienda CrowdStrike stima che i ricavi del 2024 arriveranno a 100 miliardi. Questo ha assunto anche molto personale nell'ultimo periodo, e prevede che raddoppieranno arrivando a 225 miliardi entro il 2028. Questo vuol dire potenzialità di crescita enormi. Vi faccio vedere come è andato, andiamoci ad aprire un po' i fondamentali dell'azienda, e come si è comportata nell'ultimo periodo. Beh, vedete qui, l'azienda ha avuto nel 2024, nel Q1, un incremento del 33% anno su anno e ha generato 921 milioni di dollari di fatturato. La crescita del fatturato, che è stata quella trainante, è stata quella da abbonamento, da subscription, che aumenterà del 34%, mentre invece tutto quello che va, diciamo, a essere inquadrato nei servizi professionali è stato un aumento del 18%. Quindi dal punto di vista delle revenue, insomma, l'azienda sta andando bene. Vi faccio vedere quest'altra slide rilasciata nella presentazione di Q1. Il nuovo ARR, ragazzi, ARR sta per Annual Recurring Revenue, è cresciuto del 22%, lo vedete qua, nel primo trimestre, si è attestato a 212 milioni di dollari, mentre l'ARR finale è cresciuto del 33% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 3,65 miliardi di dollari. Ha infranto le aspettative di 55 punti base. Quindi questa che cosa sta a indicare? Che comunque c'è stata tanta domanda, una forte domanda, sulla piattaforma di prodotti rilasciati dall'azienda, e rispetto al trimestre precedente, rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'azienda ha creato una pipeline record per il secondo trimestre, guidata proprio da Falcon, lo stesso prodotto che ha causato venerdì questo problema. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, sempre qui, tornando alle revenue, però questa volta volevo farvi concentrare di più su le spese operative. Quindi, guardate, Total Operating Expenses, eccole qui, che sono cresciute tra il 2023 e il 2024, vedete, 542 milioni rispetto ai 689 milioni. E perché? Beh, c'è da considerare che, guardate la voce Research and Development, giusto per fare un esempio, quanto è aumentata da 179 milioni a 235 milioni, perché ha aumentato il ritmo delle assunzioni, sta investendo in se stessa nella ricerca e sviluppo dell'azienda per farla crescere, ha aumentato del 15% in un trimestre il personale, ed è l'unico modo, se vuole veramente raggiungere l'obiettivo, che ha dichiarato già gli investitori, di arrivare e superare i 10 miliardi di dollari di revenue. Staremo a vedere se ci riuscirà, è piuttosto ambizioso, soprattutto dopo quello che è successo. Parliamo un secondo di Utile Operativo, che è cresciuto del 72%, guardate qua questo box, fa paura, è importante, è arrivato a 199 milioni di dollari, il 4% in più rispetto alle aspettative che aveva il mercato, con un margine operativo che è migliorato al 22% rispetto al 17% dell'anno precedente. Dal punto di vista del cash flow, che per me è sempre importante in un'azienda, la generazione dei flussi di cassa è stata solida, c'è stato un aumento del 42% rispetto all'anno precedente, ha raggiunto i 322 milioni di dollari, che è il più 3% rispetto di nuovo alle aspettative che si avevano. Vi voglio far vedere questa slide, perché è sempre importante vedere quello che sono le guidance, cioè quello che il management quando presenta gli utili dice per i prossimi trimestri. E questo è uscito ragazzi a fine giugno, prima che accadesse il problema che c'è stato a luglio, adesso parliamo dei rischi di questa azienda. Bene, la domanda qua, il fatturato adesso è compromesso? Perché il management diceva che si prevedevano ricavi per il secondo trimestre, compresi tra i 958 e i 961 milioni di dollari, con un tasso di crescita del 31%, e adesso sarei in grado di avere questa aspettativa e di confermare questa aspettativa, o nel prossimo earnings sarà già più bassa, e questo dovrebbe pesare ovviamente sul titolo. Ora, perché CrowdStrike non è nel mio portafoglio? Perché non lo è nel mio portafoglio? Io non ce l'ho messa, nonostante sia un'azienda molto interessante. Per quanto mi riguarda, CrowdStrike è estremamente sopravvalutata, e vi dico, quando valuto aziende che fanno SaaS, software as a service, mi piace tantissimo utilizzare come standard di valutazione l'enterprise value diviso le revenue, in particolare le forward revenues, quindi le revenues che dovranno avvenire nel futuro che sono stimate. Perché mi piace questo parametro? Perché può essere utilizzato per qualsiasi azienda in qualsiasi settore, e in particolare a me piace perché tiene conto del debito del bilancio. Giusto per dirvelo ragazzi, l'enterprise value diviso il forward revenue è una metrica finanziaria tra quelle utilizzate per valutare appunto il valore di un'azienda, in base, in relazione alle sue previsioni di ricavi futuri, perché nel lungo termine un investitore pensa sempre a quanto effettivamente può crescere l'azienda. Quindi è molto utile per tutti quei settori che sono in rapidissima crescita, come per esempio l'intelligenza artificiale o la sicurezza informatica, e hanno potenziali di grande espansione. Allora, se vi state chiedendo cos'è l'EV, l'enterprise value, è il valore totale di un'azienda che si calcola sommando quella che è la capitalizzazione di mercato, cioè il valore delle azioni ordinarie, rispetto al debito netto dell'azienda. Quindi, diciamo che questa metrica ci dà una visione molto completa di quello che è il valore aziendale rispetto alla sola capitalizzazione di mercato, proprio perché tiene conto delle passività e delle risorse liquide dell'azienda, no? Invece le forward revenues sono le previsioni dei ricavi futuri dell'azienda, tipicamente per quello che viene definito l'NTM, che sta per Next 12 Months. Quindi queste previsioni sono spesso basate su stime degli analisti o della guidance stessa fornita dalla azienda. E quindi, dividendo l'EV con le revenue, l'enterprise value con le revenue, che cosa mi aspetto di vedere? Cosa voglio vedere per un'azienda? Beh, voglio vedere che se le aspettative di crescita siano alte, questo rapporto sia più alto, perché gli investitori sono disposti a pagare un premio più alto per il potenziale di crescita futura. Invece, le aziende che hanno una crescita che è un po' più stagnante o in declino, tendono ad avere rapporti più bassi. Volevo farvi vedere questo grafico molto importante, questo è un grafico di un'analisi di regressione lineare, e voglio farvi vedere dove diavolo si posiziona CrowdStrike, per rispondere alla domanda perché non l'ho presa in portafoglio, perché è estremamente sopravvalutata. Infatti, guardate dove si trova il suo valore, enterprise value diviso forward revenues. Si trova, si avvicina a quasi, si supera il 20x, sta quasi a 22 per rispetto a quella che è la direttrice lineare sulla linea di regressione che è a 11 per. Quindi vuol dire che si trova al doppio del valore a cui si dovrebbe trovare. Infatti, vedete che la maggior parte delle aziende si concentra su questo valore. E questa valutazione troppo alta è stato quello che mi ha un po' portato a non agire, non mettermela in portafoglio, perché volevo ci fosse un ritracciamento. Un ritracciamento che non c'è praticamente mai stato nell'ultimo periodo, ma che adesso è arrivato. Infatti, mi sono messi tre bei livelli di attenzione. Quindi, quello che vorrei vedere adesso è una grande riduzione degli eccessi. Già vi dico che non mi basta un 25%, perché mi sono messo un alert tra i 140 e i 200 dollari ed è lì che mi concentrerò. Qual è la conclusione di tutto questo? Perché adesso l'azienda ha delle sfide e dei problemi da affrontare che sono veramente grandi. Il primo fra tutti, lo potete immaginare, le spese per cause legali e le relative spese per le penali che dovrà pagare. Pensate che enorme danno di immagine, ma che enorme danno che hanno avuto centinaia, migliaia di clienti che hanno subito questo problema. E quindi, quanto dovrà pagare? Ci vorranno mesi, se non anni, per scoprirlo, ma questa è una spesa che voglio andare a vedere nei prossimi bilanci. L'altro problema è sul fronte del rallentamento delle vendite future. Ragazzi, ha perso credibilità questa azienda. E la credibilità, sapete, ci si mette una vita a costruirla e un attimo a perderla. Quindi bisogna vedere effettivamente che cosa succederà in termini di nuove vendite, perché magari non riuscirà a vendere nell'immediato a nuovi clienti. Ma la mia domanda, e quella a cui voglio fare attenzione, è anche come tenersi clienti che già, dopo questa figuraccia, mi immagino che il reparto commerciale dovrà fare grandi sconti per non perdere i clienti che già si hanno. Grandi sconti cosa vuol dire? Revenue che si abbassano, ma soprattutto marginalità che si abbassa. Questi sono i tre grandi rischi che vedo affrontare per questa azienda e qual è la lezione che impariamo. Ragazzi, il mondo digitale in cui viviamo è estremamente vulnerabile e basta un aggiornamento andato storto a causare quello che abbiamo visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento qui sotto. Io vi ringrazio intanto per la partecipazione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Buoni investimenti a tutti. Ciao.